ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale oggi parliamo di cose belle in realtà parliamo sempre di cose belle su questo canale ma di cose bellissime perché vi mostro i regali di natale librosi che ho ricevuto e per librosi intendo libri ma anche cose che hanno a che fare con i libri cose apprezzate dagli amanti dei libri mettiamola così comincio con una premessa io continuo a vedere ho continuato a vedere nel mese di dicembre stories e reel su instagram di gente che si lamentava che chiede i libri e non glieli regalano mai io questo problema non ce l'ho per fortuna anzi mai come quest'anno sono stata sommersa dai libri e non potrei esserne più felice sia dalle amiche di instagram che quindi già sanno di cosa si tratta ma anche in realtà da amici famiglia e quant'altro quindi non potrei essere più felice perché mai come a natale ogni mio desiderio è un ordine e i libri che chiedo di solito li ricevo quindi cominciamo subito con i libri ricevuti dalla famiglia così poi passo agli amici alle amiche di instagram e quant'altro allora cominciò dal povero mister marito al quale avevo chiesto la confezionista di mariana lecchi che però poi ho dovuto cambiare super last minute perché l'ho ricevuto già quindi vi ho già uno dei regali quindi ho cambiato all'ultimissimo minuto la mia preferenza e gli ho chiesto uno dei libri della serie di giulio perrone editore a tema città che vi ho già mostrato quando ho letto a new york con patty smith mi sono fatta regalare a londra con virginia wolf passeggiate nella città della vita di cristina marconi questi libri mi piacciono molto perché oltre a dare una panoramica della città e dell'artista di cui si parla sono anche super maneggevoli quindi secondo me oltre al fatto che saranno bellissimi in libreria tutti insieme ma se si viaggia e si vuole andare a visitare la città di cui parla il libro è anche facilissimo portarseli dietro e usarli in viaggio sono sicura che questa cosa è stata pensata appositamente quindi per quanto riguarda soprattutto i regali da parte della mia famiglia cerco sempre di orientarmi su libri che poi so di volere fortemente in libreria e quindi all'ultimo minuto ho cambiato la mia richiesta e ho chiesto a londra con virginia wolf invece in maniera del tutto inaspettata mio fratello dopo aver visto il mio video wish list con alcune richieste che in realtà lui già conosceva ha aggiunto ai miei regali in inghilterra con jane austen tra abbazie cottage e salotti di giuseppe ierolli questo l'avevo nominato proprio nel video wish list e lui ha preso spunto e me lo ha regalato come regalino extra quindi adesso londra inghilterra new york e bologna non vedo l'ora di metterli tutti insieme in libreria così sono sicura che saranno bellissimi e questi oltre ad essere appunto maneggevoli da portare via secondo me sono anche una buona idea da infilare tra una lettura e l'altra perché si lasciano leggere molto piacevolmente e possono essere un bell'intermezzo sempre invece nei regali ufficiali ricevuti da mio fratello e la sua compagna ho ricevuto altri due titoli che erano nella mia wish list il primo di fanny robin e may fe de gribui è solo endometriosi questa è una graphic novel edita becco giallo ho visto dentro che più che una graphic novel vera e propria mi sembrano una sorta di raccolta di vignette credo solo sui toni del bianco e nero e sfumature del giallo credo perché il fiore simbolo dell'endometriosi è il girasole quindi non credo sia un caso che questo libro sia tutto giallo e non vedo l'ora di leggerlo e di parlarvene perché come vi ho detto è un argomento che mi sta molto a cuore di cui secondo me non si deve mai smettere di parlare e tra l'altro credo che sia affrontato in questa graphic novel con ironia ma anche con molta informazione quindi sono molto curiosa anche perché lo desideravo da tanto e farà sicuramente parte delle mie prossime letture così come altro titolo che desideravo da tantissimo perché mi sa che lo avevo chiesto a natale anche l'anno scorso se non mi cade la pila è the storyteller storie di vita e di musica di dave growl che devo dire è un bel mattone dal punto di vista del peso della carta non tanto del numero delle pagine perché sono solo solo 475 però è bello sostanzioso anche la copertina rigida è un libro che volevo leggere tantissimo l'ho nominato appunto nella mia wish list e speravo di riceverlo perché comunque come vi dicevo dopo quello che è successo lo scorso anno sono ulteriormente affezionata a dave growl e ai foo fighters e quindi non vedevo l'ora di leggerlo anche se so che sarà doloroso soprattutto nei passaggi che appunto parlano di taylor hawkins che era il batterista dei foo fighters morto lo scorso anno quindi questi i regali da parte della family non potrei essere più felice perché 3 su 5 credo erano nella mia wish list poi passiamo ai regali degli amici e delle amiche allora un regalo che mi ha aperto un mondo me lo ha fatto il mio amico tommaso è una pubblicazione dell'ippocampo ed è il favoloso mondo di yuko higuchi io non conoscevo questa artista illustratrice ma mi ha veramente aperto un mondo intanto perché la pubblicazione è bellissima e poi perché l'immaginario di quest'artista è meraviglioso allora sembrava quasi scusate ho trovato sembrava quasi una illustratrice d'altri tempi in realtà poi ho visto che ha collaborato con case di moda e svariati brand ed è veramente un libro meraviglioso non solo è diviso a capitoli con le varie tematiche trattate dai vari soggetti diciamo trattati da questa artista ma ci sono anche in fondo delle immagini del suo studio del suo atelier e anche le immagini di lei che dipinge bellissimo mi ha veramente aperto un mondo nel vero senso la parola strepitoso la pubblicazione in sé bellissima e appunto mi ha fatto conoscere un artista che non conoscevo e dall'immaginario che mi piace tantissimo poi veniamo ai libri ricevuti dalle amiche di instagram e comincio da jessica lettrice tra le ombre anche perché c'è un fatto molto carino relativo al regalo che le ho chiesto jessica mi aveva chiesto delle preferenze rispetto ai libri che volevo ricevere per natale e io le ho detto guarda non dirmi niente io te ne do una sola perché so di volere tantissimo questo libro te lo chiedo così in via esclusiva e si trattava di jamaica in di daphne du murier quello che è successo è che non sapevo che claudia lì se legge lì se viaggia le aveva chiesto lo stesso libro quindi jessica ha regalato sia a me che a claudia jamaica in e sicuramente sarà poi una delle nostre letture condivise è una lettura che mi aspetto super coinvolgente già mentre leggevo rebecca l'avevo messo in wish list poi anche in vari commenti mi era stato consigliato e quindi felicissima di averlo ricevuto perché lo volevo al cento per cento e sarà bello poter condividere questa lettura con claudia anche perché mi ha colpita il fatto che non fosse un titolo così chiacchierato ma che entrambe lo avessimo scelto quindi grazie di cuore jessica perché mi hai regalato non solo una lettura che desideravo ma una lettura condivisa e hai veramente esaudito un desiderio grande poi veniamo appunto al titolo che vi ho nominato prima ovvero la confezionista di mariana lecchi che ho ricevuto da francesca ledimigi 83 e vanessa su fashion ovviamente tutte le persone che vi nomino ve le linko qui sotto è un titolo che io volevo tantissimo quindi sono stata super felice di riceverlo perché mariana lecchi mi ha incantata con quel che si vede da qui ed è stato uno di quei casi in cui io visto che era uscito il titolo nuovo l'ho desiderato subito non ci ho proprio pensato quindi mi hanno fatto un regalo veramente che desideravo da morire e insieme a questo come se non fosse abbastanza mi hanno fatto un secondo regalo sempre legato alla lettura tra l'altro con un pacchetto meraviglioso ed è un segnalibro fatto a mano da una artigiana che si chiama la blondi ed è questo segnalibro a parte la presentazione che è meravigliosa c'è questo con tutta una frase scritta ma questo qui è il segnalibro è fatto in feltro interamente fatto a mano una di quelle cose che io vorrei saper fare nella vita ma lascio fare a chi a chi sa fare queste cose è meraviglioso quindi sono stata felicissima perché era assolutamente un regalo totalmente nelle mie corde così come i prossimi due regali che vi mostro allora il prossimo viene da claudia appunto lise legge lise viaggia che mi aveva preannunciato questo regalino ma poi ha aggiunto un secondo regalo regalino alla faccia del regalino regalone mi ha regalato un libro che aveva ricevuto con l'abbonamento sur che lei ha subito capito poteva interessarmi ed è è tempo di inventare cronache dalla rivoluzione indie rock a cura di katrin spilman questo è un libro vedete che in realtà ha il formato tipo di una graphic novel è il libro che raccoglie anni e anni di articoli interviste speciali di una rivista che si chiama puncture che è stata negli anni 80 e 90 un faro per gli amanti dell'indie dell'indie rock quindi il libro è un excursus con foto articoli appunto interviste tra l'altro è molto bello anche esteticamente e appunto racconta gli anni di questa rivista tramite gli artisti di cui ha parlato qui dietro c'è una lista degli artisti e vi dico solo che tra pj harvey nick cave i pixies jeff buckley e chi più ne ha più ne metta è veramente una antologia meravigliosa che tra l'altro secondo me si può leggere un po per volta quindi può fare compagnia nei mesi leggendo un articolo alla volta ed è veramente un regalo che ho apprezzato tantissimo perché claudia ha proprio interpretato una mia passione e mi ha regalato questo libro meraviglioso che tra l'altro renderà felice anche mio marito quindi ha fatto due regali in uno e anche qui come se non bastasse claudia mi ha anche regalato un secondo libro che viene dalla sua libreria che è natura morta di louis penny ne aveva parlato in un suo video e mi aveva incuriosita tantissimo perché io amo i gialli e i thriller ambientati nelle piccole province dove insomma diciamo l'atmosfera fa parte del racconto e questo sembra proprio fare al caso mio da questo punto di vista è ambientato in canada claudia l'aveva apprezzato anche se su alcuni punti non era convintissima e penso anche lei come me i thriller poi tende a lasciarli andare quindi sono molto contenta anche perché questo diventerà sicuramente un bel libro da portare poi al mio scambio di libri perché ci sono varie lettrici appassionate di questo genere e quindi sicuramente renderò felice anche qualcun'altra quindi grazie infinite claudia perché hai veramente ti sei superata hai fatto hai fatto molto più di quello che mi aspettassi e ho apprezzato tantissimo i tuoi regali e non vedo l'ora di cominciare a leggerli concludo con altri due regali bellissimi che ho ricevuto da ambra sono solo libri anche lei ormai divenuta un'amica nella vita reale oltre che su instagram e i suoi regali sono sempre legati ai libri ma uno dei due non è un libro bensì un reading journal ovvero uno di quei diari agende in cui inserire le proprie letture questo è interamente disegnato da ambra che intanto lo ha realizzato assolutamente nel suo stile quindi ci sono piante carnivore farfalle falene lune pozioni magiche e quant'altro ma soprattutto lo ha realizzato in maniera super personalizzabile perché questo reading journal è un po' strutturato come anche un bullet journal cioè quei diari con solo i puntini che si possono personalizzare a piacimento ci sono alcuni elementi che vanno colorati oppure in cui si può scrivere per esempio questa che è la mia parte preferita è quella dove si colora la pila dei libri letti e la pila dei libri acquistati per esempio ci sono le tbr mensili da inserire ma poi ci sono anche tutta una serie di pagine un po' più libere qui si possono tracciare le pagine lette qui c'è una mappa e si possono colorare i vari paesi dove sono ambientati i libri che leggiamo qui si possono tracciare a propria scelta elementi che si vogliono tracciare nelle proprie letture quindi personalizzabile al massimo e con tutto lo spazio per inserire le proprie letture anche in forma di recensione quindi con più spazio esiste in una versione da 50 in una versione da 100 libri ve le linko qui sotto perché ambra lo vende tramite amazon e ha la copertina rigida tra l'altro con una consistenza bellissima e assolutamente super completo quindi questo ve lo consiglio tantissimo io sono felice che mi terrà compagnia tutto l'anno e se cercate un reading journal anche con ampio margine di personalizzazione questo qui potrebbe fare al caso vostro e poi ambra mi ha regalato questo libro bellissimo che si chiama the little book of bees che è una guida illustrata al mondo delle api in tutte le loro forme quindi si parla delle varie specie di ape si parla di come funziona l'alveare si parla del miele si parla anche di apicoltura quindi come scegliere il posto ideale per iniziare a fare gli apicoltori insomma tutti 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 gli aspetti della vita delle api ma con queste illustrazioni meravigliose quindi assolutamente una lettura must per me ma anche proprio un bel libro da avere in libreria perché è meraviglioso sia dentro che fuori e veramente su misura per me mi sono sentita immensamente fortunata perché tutti i pensieri librosi che ho ricevuto a natale sono stati proprio pensati sulle mie preferenze sui miei gusti quindi non potrei essere più felice di quello che ho ricevuto e sono estremamente grata a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me che hanno anche solo investito del tempo per farmi un regalo sono veramente mi sono sentita sopraffatta quando sono tornata a casa dei miei ho visto la quantità di cose che mi erano arrivate e sono stata veramente super felice quindi questi erano i regali librosi ricevuti a natale 2022 seguirà separatamente più avanti nel corso del mese un mini book haul invece con quei libri recuperati a dicembre ma che erano scambi invi da case editrici e un mini acquisto quindi quelli li vedrete poi in separata sede io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi fatemi sapere qui sotto se siete fortunati come me ad aver ricevuto dei libri a natale oppure se fate parte della schiera di chi li chiede e magari non li riceve o se magari non li avete chiesti perché avevate ricevuto o acquistato insomma già abbastanza libri di vostro lo spazio qui sotto come sempre tutto vostro io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi e come sempre vi ringrazio per il vostro tempo il vostro affetto i vostri commenti e noi se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao